ciao ragazzi allora oggi video acquisti ve l'avevo promesso quindi ho deciso oggi di farvelo scusate se non mi faccio vedere in questo caso di solito sapete che faccio i video riprendendomi video acquisti ma ho problemi di spazio in casa perché come avevo detto alcuni di voi che seguono il live sto ribaltando un po' la casa e di conseguenza non sarebbero venuti bene a livello di luce se mi fossi messa in altri punti della casa visto che appunto ho un po' di casino in giro quindi ve li faccio così anche perché ci sono delle cose da spacchettare e quindi diciamo che sulla scrivania si vede anche meglio viene anche meglio il video delle cose da spacchettare diciamo quindi preferivo anche per questo farveli in questo modo spero non ci sia troppo riflesso con il flash perché comunque non c'è tantissima luce quindi ho dovuto utilizzare il flash cercherò di farveli vedere al meglio possibile allora premetto che ci sono un paio di fumetti del mese scorso fine mese perché nel scorso video acquisti ancora non erano usciti quando l'ho fatto quindi non ve li ho mostrati ve li mostro appunto adesso poi appunto ci sono due topolini con il gadget quindi quelli da spacchettare che vi dicevo che vedremo a fine video anche se diciamo non ve li farò vedere consecutivi come numerazione è per questo motivo qua adesso se vedrete che saltano dei numeri mano mano che ve li mostro è proprio per questo perché i due da spacchettare ve li faccio vedere a fine video così li andiamo ad aprire bene insieme e poi per concludere proprio nel tutto il video una piccola chicca di un acquisto che avevo fatto usato diciamo mesi fa e non avevo mai spacchettato a un certo punto mi ero anche dimenticata di averlo acquistato oggi mi è venuto in mente e ho detto cavolo non l'ho più spacchettato e di conseguenza appunto volevo condividerlo con voi vi dico che è un fumetto fine anni 80 se qualcuno di voi è stato attento alla copertina che ho messo avrà potuto intravedere qualcosa perché ho messo che qualcosa che si intravedeva per capire un po' magari di che cosa sto parlando se no comunque lo vedrete a fine video quindi non c'è problema allora andiamo subito a cominciare con quelli appunto del fine mese scorso che non vi avevo mostrato che sono il dylan dog la notte eterna molto particolare questa copertina con la pubblicità del color fest di questo mese che vi mostrerò dopo perché ho acquistato siamo arrivati al numero 410 con dylan anzi adesso questo mese uscirà il 411 però ancora non è uscito quindi ve lo farò vedere poi quando lo acquisterò e poi l'altro del mese scorso è Samuel Stern la casa delle farfalle siamo arrivati a un anno di Samuel con questo volume perché siamo al numero 12 se non sbaglio con la pubblicità dello speciale che vi avevo fatto vedere se qualcuno non l'avesse visto sul canale troverà un video a parte dove appunto parlo di questo speciale con la pubblicità del prossimo numero sì infatti il numero 13 di 29 ne dico quindi questo è il numero 12 adesso andiamo a vedere anche dalla costina esattamente numero 12 e quindi anche Samuel abbiamo fatto un anno poi proseguiamo adesso iniziano quelli di questo mese anzi aspettate vi faccio vedere in ordine prima questo che è l'inedito di Diabolic di questo mese siamo arrivati al numero 11 Ginko senza più regole di questo vi posso parlare un po' di più abbiamo Claudia in retro copertina diciamo avevamo Claudia quanto sembra allora di questo vi posso parlare un po' di più perché questo è l'unico di quelli che vi sto mostrando che ho letto di questo mese quindi vi posso dire che gli inediti di quest'anno di Diabolic mi stanno veramente piacendo tantissimo ce ne sono stati vabbè alcuni che mi sono piaciuti di più altri che mi sono piaciuti di meno questo fa parte di uno di quelli secondo me molto particolari molto belli come vi ho sempre detto quando c'è un fumetto di Diabolic che parla e vede proprio come protagonisti assoluti se vogliamo i personaggi principali della storia mi piacciono sempre quindi in questo caso vedremo tutti i personaggi vedremo Diabolic e Eva vedremo Ginkgo soprattutto qualcosa che riguarda Ginkgo vedremo proprio loro come protagonisti assoluti di tutta la storia praticamente quindi veramente veramente molto molto bello e consigliato questo poi quello che vi stavo per far vedere prima però poi ho deciso di andare in ordine è il Diabolic R perché l'altro è uscito l'uno mentre questo esce il 10 quindi ho detto vado in ordine visto che li ho qua abbiamo la resa di Ginkgo questo non l'ho ancora letto quindi sulla storia non vi posso dire molto ragazzi guardate che bello abbiamo Diabolic in retrocopertina molto bello vedete la costina bianca del Ristampa R siamo arrivati al numero 713 io la Ristampa R inizialmente non l'acquistavo invece poi ho iniziato a acquistarla ho smesso di acquistare la Swiss quindi non la troverete nel video ma semplicemente perché perché la Swiss è arrivata a fare a ristampare storie degli anni 70 e le storie degli anni 70 io molte le ho recuperate in inedito altre ho intenzione ancora di recuperarle in inedito e quindi non le sto prendendo più in Ristampa Swiss perché perché se trovo gli inediti appunto le recupero in quel modo lì e molti le avevo anche già quindi averli doppi è vero che magari sono nuove quindi per leggerli sono anche più più comodi e tutto però sto prendendo veramente tanta roba quindi un po' di cose ho dovuto abbandonarle come avevo fatto con il Classic Text per capirci ragazzi perché già come vi ho detto non sto riuscendo a stare dietro a leggere le cose che sto acquistando quindi devo fare un po' delle scelte ecco poi abbiamo lo Zio Paperone di questo mese questo è uscito il 15 di questo mese siamo arrivati al numero 29 guardate che bella questa copertina anche questo non l'ho ancora letto ma sono molto curiosa di leggerlo perché da quel che so praticamente c'è una storia inedita che è un seguito di una storia famosa appunto di Zio Paperone che dovrebbe essere Paperino e la Farfalla di Colombo e troviamo appunto il seguito diretto di questa storia come inedita su questo numero appunto quindi sono molto molto curiosa io non avevo letto la storia originale sono molto curiosa quindi di leggermi la storia originale e il suo seguito siamo al numero 29 come vi ho detto poi a me Zio Paperone piace davvero tantissimo non ho recuperato i primissimi numeri ragazzi di Zio Paperone ho iniziato purtroppo a collezionare questa serie che il fumetto era già iniziato però conto di recuperare anche gli arretrati perché veramente io ho iniziato a leggere dal 16-17 più o meno come numero quindi devo recuperare quelli prima spero di riuscire a recuperarli in caso ve li mostrerò poi abbiamo Dampir il licantropo di Matera guardate che bello mi ha colpito tantissimo la copertina di questo mese poi vabbè il fatto che sia ambientato a Matera comunque mi ispira tantissimo io ho origini di giù pugliesi non della Basilicata però diciamo che Matera dalle mie parti giù è a un quarto d'ora di strada più o meno quindi ci sono ci sono stata e sono non lo so mi ha incuriosito molto questa cosa che la storia fosse appunto ambientata lì dietro troviamo la pubblicità dello speciale del mese scorso quindi continuiamo questa questi vent'anni di Dampir diciamo il ventesimo anno di Dampir poi penso che vi farò anche un video quando avrò completato tutte vedete che c'è il numero 20 quando le avrò completate tutte quelle di quest'anno appunto penso che vi farò un video con tutte le copertine perché sono molto molto belle secondo me poi andiamo avanti abbiamo come vi avevo detto il Dylan Dog Color Fest troviamo in questo caso tre storie all'interno quindi non è una storia unica io prediligo le storie uniche ne parlavo anche con alcuni di voi in live qualche giorno fa non sono un amante di queste storie divise così però devo dire che adesso vi farò vedere qualche disegno di questo gli altri ragazzi sono andata un po' spedita perché sennò veramente non non finisce più poi il video viene veramente lunghissimo siamo arrivati al numero 35 dicevo del Color Fest vi farò vedere un po' all'interno perché comunque mi ha colpito molto i disegni i colori di questo numero che avevo visto su internet prima che uscisse diciamo nell'anteprima e mi aveva colpito tantissimo quindi nonostante io non ami queste storie separate però guardate che bei disegni bei colori mi aveva colpito anche dalle trame mini trame che avevano messo sul sito della Bonelli diciamo mi aveva mi aveva incuriosito ecco e quindi ho deciso di acquistarlo non lo acquisto proprio sempre il Color Fest però quando mi incuriosisce diciamo lo acquisto a parte che da un po' di tempo questa parte da da qualche numero li sto acquistando praticamente sempre però diciamo che non li ho tutti ecco ne ho recuperati alcuni anche più vecchi ma non li ho tutti poi proseguiamo con il Tex Wheeler ovviamente che non poteva mancare non l'ho ancora letto ragazzi perché me l'ha recuperato mio papà ieri mi sembro ieri o l'altro ieri non ho ancora avuto tempo di leggerlo però sono curiosissima di leggerlo perché il numero del mese scorso mi è piaciuto tantissimo e questo è diciamo il continuo della storia appunto del mese scorso e quindi non vedevo l'ora che uscisse questo numero non vedo l'ora di leggerlo questo penso che vi farò poi la recensione magari scusatemi se come vi ho detto magari la dovrò fare in questo modo come questo video però perlomeno sicuramente varrà la pena di parlarvene conoscendo le storie del Tex Wheeler quindi in qualche modo quando lo leggerò ve ne parlerò abbiamo quindi resa dei conti al White Horse abbiamo l'anteprima del prossimo numero le copertine ragazzi sarò ripetitiva ma una più bella dell'altra non c'è niente da dire guardate anche la prossima uscita che bella voglio vedere anche la costina e siamo arrivati al numero 25 con il Tex Wheeler consiglio a tutti veramente questa serie veramente stupenda poi andiamo avanti sempre rimanendo in tema Tex ho preso il numero mensile quello della serie regolare quindi Tex attentato a Montales guardate che bella anche questa copertina veramente Tex delle copertine tra l'inedito il Tex Wheeler veramente una più bella dell'altra cioè dei copertinisti veramente sensazionali sempre qua fa vedere appunto la pubblicità del numero del mese scorso di cui vi parlavo e del numero che vi ho appena fatto vedere del Tex Wheeler quindi infatti dice la drammatica giovinezza di Tex Wheeler perché appunto riprende proprio degli eventi cruciali della storia di Tex diciamo di quando era giovanissimo e quindi parlerà del fratello del padre quindi proprio delle sue origini e veramente veramente consigliatissimo questa è la costina siamo arrivati al numero 721 con il Tex regolare poi proseguiamo abbiamo un altro fumetto di cui mi piacciono tantissimo i disegni e le copertine è Drago Nero Ribelle le figlie di Karnon Karnon vabbè non so come si pronunci comunque guardate anche questa copertina spettacolo anche le copertine di Drago Nero sono veramente bellissime siamo arrivati con Drago Nero al numero 13 vediamo se posso vedere qualche disegno all'interno di Drago Nero guardate sono veramente sempre molto molto belli i disegni di questo fumetto adesso io non l'avevo ancora sfogliato ragazzi quindi sto vedendo con voi sto vedendo con voi le tavole di questo questo fumetto comunque niente sono rimasta molto indietro con Drago Nero sono veramente rimasta indietro a livello di lettura però quelli che avevo letto mi erano piaciuti molto e quindi di conseguenza ho deciso di continuare lo stesso ad acquistarli prima o poi mi rimetterò in pari ok